I fiordi. Ho scoperto di avere ancora un sogno. L'ho trovato in un cassetto che non aprivo più da tanto tempo. È il desiderio di raggiungere la Norvegia. Si tratta di un viaggio per mare, nel mare più bello del mondo. Ammirare i fiordi della Norvegia è un sogno cominciato da bambina. Quando lo zio pittore che girava il mondo ne dipinse uno. E il quadro fu appeso alla parete del salotto. Non era dipinto col pennello, ma con un attrezzo che lui chiamava spatola. I colori erano smaglianti. In armonia tra loro, anche se in gran contrasto. L'azzurro intenso sopra il verde. Piacciai sulle montagne. Giochi di luce e di ombre che soltanto il sole sa disegnare. Desideravamo entrambi, amore mio, partire da Bergen e raggiungere Kirkenes. La vita ci pareva lunga. Il tempo ci sembrava nostro ed infinito. Tutto pareva possibile e irraggiungibile. Non è andata così, invece, la vita. Sono restata sola. Eppure quel desiderio, quel progetto fatto insieme, mi è rimasto dentro. Chissà se esploderà. Grazie. 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 Grazie.